Eccoci con un nuovo video su Black Ops 2, come potete vedere la prima schermata appare la modalità prestigio io non riesco più a resistere, vi avevo detto sì che volevo rimanere al 55 ma non riesco, voglio fare il prestigio e andare avanti Fatto, vediamo un po', premi prestigio, rimborsa tutti i punti di sblocco ottenuti, slot extra, sblocchiamo un slot extra e abbiamo fatto il prestigio, niente, lanciamo subito una partita, la mia modalità preferita uccisione confermata quindi niente, vi avevo detto sì che volevo rimanere al 55 del primo però non riesco sinceramente a resistere perché sia sul 4 che a World at War avevo fatto tutti i livelli, tutti i prestigi e sinceramente non riesco a rimanere fermo al primo, quindi ho dovuto per forza lanciare il prestigio vediamo un po', avremo ovviamente le classi bloccate come le serie di punti quindi mi sembra adesso dovremo aspettare fino al quinto livello per poter cominciare a ricreare le classi poi devo cominciare a vedere anche le opzioni relative al prestigio perché ho visto c'era anche un rimborso, punti non so che cos'era dopo lo andrò a vedere con calma vediamo un po', scorpion m16 m26 andiamo con lo scorpion vediamo un po' che riusciamo a fare ok, andiamo poi questa è una mappa veramente molto bella speriamo di fare una bella partita nonostante non sia con la mia arma preferita uno l'abbiamo già preso siamo già a due hanno fatto il giro, andiamo a vedere ho preso anche questo WBG giusto, disponibile adesso stanno tutti dall'altra parte ce n'è uno che sta facendo il giro ho preso adesso andiamo su, che ce ne sta un'altra ancora vediamo un po' se riusciamo a sbloccare qualche facciamo un cecchino qua preso attacco pulminio facciamolo nel mezzo ah no, stanno qui perfetto, dragon fire vediamo un po' che riusciamo a fare sinceramente non l'ho mai utilizzato vediamo un po' che riusciamo a fare sono stato promosso ma si accelera che farebbe sinceramente mai utilizzato, c'è qualcuno chiaro che mi stava sparando non riesco proprio a vediamo un po' dragon fire però è carino ma nel frattempo nel senso io sto morendo oppure no per curiosità ah nel senso dura pochissimo sono stato subito subito ucciso ah è come un'uccisione 7-1 no questo stava dietro me ne so proprio accorto stava dietro la colonna per un attimo distratto sta venendo uno da qui andato sopra eccolo è sceso giusto in tempo per beccarmi io ero un altro che sinceramente non si vedeva sulla mappa è perché purtroppo vedo troppe volte la mappa e e perdo la cognizione con con la visione di gioco quindi mi passano vicino e e mi distraggo un attimo vediamo un po' no io penso che era morto si avrò buttato così per terra spettacolare abbiamo buttato quanto stiamo facendo eravamo primi adesso preso no non riesco proprio soprattutto poi quando si usano le mitragliette senza silenziatore non riesco a a tenerle bene a a bada quindi vedo l'ora di subito riutilizzare avevo visto un'arma che un PDV 57 per terra me l'ha fatto prendere facciamo il giro che livello siamo? ah già a tre va dai me ne arrivare a cinque con non riesco comunque a lanciare il C4 no ma l'avevo preso cacchio e andiamo ho visto che ho il C4 un po' vediamo no dove stava? a mezzo al prato manco l'ho visto stavo talmente tanto lanciato che manco me ne sono reso conto dovrebbero spuntare da lì no certe volte non riesco a capire come sia possibile che lo vedo prima sparo però sono morto ugualmente come se mi vedessero mezz'ora prima sta uno sta facendo il giro preso sotto caporale sono sta promosso andiamo sinceramente con questa mirare da la distanza non è per niente facile no sempre il cecchino l'ho fatto secco si sarebbe andato a piazzare dentro la casetta andiamo avanti ecco uno sta venendo da qui no è sempre che cavolo riesco a farne due di fila 11-10 aiaiaiai no che cavolo si è girato e mi ha ammazzato quell'altro è arrivato un altro in un'altra parte cavolo andiamo andiamo un po' ma le sono scampato è un drone d'attacco preso niente troppo troppo distante facciamo il giro da quest'altra parte zoom variabile ho preso sto facendo da cecchino 12-12 dai cerchiamo almeno di arrivare in parecchone uno che sto facendo il giro ho preso ho fatto un po' di punti oh non muori oh è morto che cavolo voleva morì presi attacco fulminio lanciamolo qui presi tutti quanti gambe belli tre preso un'altra no il dragonfire non lo voglio perché prima ho fatto sinceramente ride quindi lo lascio là da sbloccare preso o av do la sbloccare oh dai ci stiamo riprendendo finito dai e niente ai 23-12 siamo arrivati a livello 5 quello che volevamo primo prestigio fatto e niente ad un prossimo video